Stiamo presentando i nuovi prodotti con Fax MX, quindi la nuova serie Canon dedicata all'ufficio, quindi con il 4 in 1 stampa, scalconi e copia Fax. Ora qua abbiamo il modello MX R40, invece qua abbiamo il top di gamma, l'MX 870, il doppio cassetto carta, il Wi-Fi, scheda di rete, lettore di schede di memoria, la duplex, quindi un DADF in fronte e retro e anche una stampa in fronte retro. Possiamo salvare i documenti anche su supporto di memoria, prima interno e poi le andiamo a riportare su una chiavetta, su una scheda di memoria. Possiamo ancora vedere anche... Vediamo l'IP 2007, stampantina entry level da 46 euro con una terra risoluzione di stampa da 4.800 per 1.200 dpi. Tre nuove calcolatrici ecologiche recuperate dalle vecchie copiatici Canon con batteria solare, abbiamo la attascabile, quella da tavolo e la scientifica. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.